L'anno e giorni scorsi non è stata a Napoli, lunedì a Roma per un incontro alla Camera e ieri invece a Reggio Calabria per parlare di beni confiscati alle mafie. La nostra battaglia in questo momento come sindaci in Parlamento e col Governo è una battaglia fondamentale, qua si stanno discutendo il destino del nostro Paese, la coesione democratica e la tenuta della Repubblica attraverso la garanzia dei servizi di rilevanza costituzionale. Siamo a uno snodo decisivo, sono ore fondamentali e poi ieri sono andato insieme ai sindaci del Sud a parlare di impegno concreto che i sindaci fanno contro le mafie con l'utilizzo dei beni confiscati che vengono messi nella disponibilità del popolo e quindi a una fruizione collettiva. Ho portato chiaramente in quel territorio che conosco molto bene anche la mia esperienza di pubblico ministero quando all'epoca facevamo i procedimenti e i processi per acquisire i beni ai mafiosi, sequestrarli e confiscarli. Oggi invece come sindaco come preveniamo l'infiltrazione della mafia all'interno dell'istituzione della politica e come utilizziamo i beni confiscati per consegnarli, come dicevo prima, ad attività socialmente di grande pregio e di grande utilità. Siamo sempre in prima linea, i sindaci lo sono e io lo sono da sempre in prima linea contro le mafie e contro la corruzione.